No! Non posso arrendermi! Io sono ancora un samurai! Kimo, Sami, Simo, Shida! Vi prego, lasciatemi usare i vostri poteri perché io sia più forte! Perché trionfi la giustizia, la saggezza, la sensibilità, la fiducia e la determinazione io combatterò per le forze del bene! Ryo mi sta sfuggendo, ma com'è possibile? Credi che sia Ryo? Sì, puoi contarci! Che cos'è? Hai visto la sua armatura, Abra? Non è più la stessa! È come se le cinque armature si fossero fuse! Vatti sotto, Argo! Ora ti dimostrerò quanto è forte il potere del bene! Non farmi ridere! Credi di far paura al grande Argo? Ti schiaccerò come un insetto! Prendi questo! Non è possibile! Potere del fuoco! Potere del fuoco! Jaburai! No! No!